Salve, io sono Mara, ho frequentato il corso Antitimidezza di Paolo Russo, il professore. È stato il periodo veramente più bello che io ricordi. Ricordo che ero la più piccola, mi prendevano in giro perché facevo la locomotiva e dopo mi ricordo molto bello che facevamo il coro del pollaio. Io facevo il pulcino, cip, cip. È stato veramente molto molto divertente e molto sentito anche il monologo che lui, noi abbiamo scritto e naturalmente lui ce l'ha un po' corretto, il monologo. Io ho scelto il monologo, perché sono abruzzese, sul periodo del terremoto all'Aquila. Lo ricordo molto volendieri e penso che se Paolo ha la bontà di rifarlo, io sarei contentissima. Paradise! Paradise! Grazie a tutti